e questo è il gran sasso siamo arrivati a Stiffe sono i souvenir e dopo ci troviamo nel territorio del comune di San Demetrio Nevestini in provincia dell'Aquila all'interno del parco naturale regionale Sirente Velino e stiamo per andare a visitare le grotte di Stiffe esse sono la testimonianza di una risorgenza attiva unica in Italia resi accessibili al pubblico dal 1991 costituiscono oggi uno dei principali siti naturalistici del territorio aquilano che è dato dal diossido di Morganese e poi abbiamo il rosso che è dato dal diossido ferrico questo significa che però proprio perché non abbiamo scatatini e scatatini è evidentissimo perché all'improvviso rispetto al rumore che sentivamo prima il suono del film è bella lieve in teoria non dovremmo neanche sentirlo c'è quindi 2-3 metri sotto di noi e non dovremmo sentirlo in realtà se adesso ha questa portata è per via delle abbondanti piogge che ci sono state da lì in alto da lì in alto da lì in alto io sono che è rostruita E' visto, guarda, si riflettono sull'acqua. Come dicevo prima, la comprensione è questo veramente tecnico, che è un'unica con la stella di formazione rocciosa, abbiamo poi, non è l'unico esempio, però qui sono carine perché stiamo tutte insieme in questa piazzoletta, abbiamo un insieme di stalagmiri, cioè quelle che vanno dal basso del centimetro, dal litro e dal litro, dove l'acqua ha trovato maggiori fili di penetrazione della sua roccia, maggiore fissure, e questo percorso, c'è una panna, bella questa panna, un insieme di un'acqua, dandovi appunto una colorazione totalmente nera, quindi diciamo molto interessante, molto curiosa, anche molto bello, mentre proprio nero, in questo spazio che si apre, e in questo spazio che vediamo come la, come trovare la potabilista, in questo spazio che è la roccia, è la rocciatura, e con tutte quante le stesse stratificazioni, anche questo esito di frane, trasformazioni continue. Grazie a tutti, grazie a tutti.